Buonasera a tutti, come sapete mi chiamo Sara Lin, ringrazio oggi al sindaco di poter essere qui a raccontare la mia storia, a tutti voi. Ebbene, sono una imprenditrice nel settore dalla moda, in particolare produco borse e accessori nella pelletteria. Sono in Italia da ormai 25 anni, sono venuta qui quando ero piccola con i miei genitori, all'epoca loro avevano una fabbrica di abbigliamento ed erano sarti. Ho studiato qui e nel corso degli anni ho coltivato la mia vera passione per la moda, in particolare per lo stile e la realizzazione delle mie collezioni. Ho creato un mio marchio che ho dedicato ai miei figli che si chiamano Jackie e Selina e successivamente ho coronato il mio sogno più grande che è quello di avere un marchio made in Italy, quale per me rappresenta l'eccellenza della qualità nel mondo. Il marchio si chiama marchio Desmo che ho acquisito e è fondato nel 1976, è un marchio storico fiorentino e che sto rilanciando con un mio socio italiano e con un team di validi collaboratori, tra cui la maggioranza sono italiani e che mi accompagnano in questa avventura con grande entusiasmo e passione. Infatti di recente ho inaugurato una boutique in via Tornabuoni, quale sta riscontrando un grande successo anche a livello internazionale e questo sarà il primo delle altre aperture a seguire anche all'estero. Il mio futuro lo vedo qui, in Italia, insieme ai miei figli che sono nati qui a Firenze e studiano qui, crescono qui, hanno gli amici qui in Italia e pertanto spero di dare un buon esempio, di dare un contributo migliore sempre per questo paese e anche per la comunità cinese. Spero che integrino sempre di più, visto che anche loro creano la famiglia, studiano, lavorano qui in Italia. Grazie.